12 fatti sui criceti. Ti prego di lasciare un like ed iscriverti al canale. Ora iniziamo con il video. I criceti hanno 16 denti tra cui 4 incisivi e 12 molari. In natura esistono oltre 500 razze di criceti, un esempio è il criceto europeo. Le razze domesticate sono solamente 5 e sono il criceto dorato, criceto roborowski, il criceto russo, il criceto winter white e il criceto cinese. I criceti hanno due tasche guanciali in cui conservano la loro riserva di cibo. Si espandono fino alla larghezza dei loro fianchi. In natura un criceto scava più di un metro sottoterra, ecco perché è importante per vedergli un'ampia profondità di lettiera. I criceti sono animali onnivori. Questo significa che si devono nutrire di molte cose come ad esempio semi, grano, frutta e verdura, proteine animali e molto altro. I criceti sono miopi, ecco perché non vedono molto bene. I criceti sono animali vietati nei posti come Australia e Hawaii perché l'ambiente è troppo simile al loro ambiente naturale e se in caso il criceto scappasse si creerebbero colonie di criceti. I criceti possono correre fino a più di tre chilometri a notte. I criceti sono animali solitari e stanno meglio da soli. Possono iniziare a riprodursi già dalle quattro settimane di vita. I denti di un criceto sano saranno di colore giallo barra arancione. I criceti non bevono molta acqua per via della loro provenienza.